Oggi vi faccio vedere un po' il mio negozio, io non ve l'ho mai fatto vedere perché un pochino mi vergogno, nel senso che mi imbarazza perché io ho veramente un sacco di roba in quanto essendo a Rimini qua non ci sono negozi vicino diciamo, forniti come il mio diciamo, e quindi vengono tutti da me soprattutto nell'urgenza perché sanno che qua trovano sicuramente tutto. Allora ho aiutato che tratto tutte le forze dell'ordine, tutte le forze armate, le forze di polizia, le associazioni, le guardie giurate, adesso anche l'ADM si è messa coi gradi perché tutti vogliono essere un po' militari e polizzotti. Qua ho un po' di scarpe anfibi, ce l'ho anche qui, qua tutti gli zaini, varie dimensioni, qua tutti i vari porti, sono talmente tanti che li ho dovuti mettere nelle scatole, porta radio, porta pila, porta guanti, porta smartphone, porta caricatore, tutto da cinturone. Le cinture a velcro, sottocintura, velcro femmina, velcro maschio, col passante. Qua un po' di guanti, guanti da divisa classica, guanti antitaglio e un po' misti. Qua gli accessori per il cinturone che vendo di più proprio il correggiolo per la pistola o per lo spray, i portamanette di corduco. Qua c'è la stessa roba in pelle. Qua ci sono le patch che vendo di più anche sul sito, tutte le patch. In questi contenitori ci sono un po' di cappelli, adesso sto facendo delle forniture quindi stanno scendendo un pochino. Comunque i cappelli di tutti, carabinieri, finanza, che poi quelli della finanza ce li ho in alto perché sono quelli che si vendono di meno. Un po' di giubbottoni tipo polizia locale dell'esercito, anche questo è dell'esercito. Un po' di pantaloni blu, maglie varie, i baschi. Questi se ne vendono tantissimo quindi li ho addirittura divisi per taglia per fare in fretta. Cioè praticamente uno quando entra dice, madonna quanta roba, che è quello che dicono praticamente tutti. Sembra disordinato ma in realtà c'è veramente tanta roba, io non so più dove metterla. Ah qua poi ci sono le tese per le donne, carabinieri e finanza. Poi qua ci sono tutte le placche che sono veramente tante, capitaneria, 118, ministero della difesa, croce rossa, polizia di stato, solo i portafogli, security service, protezione civile, carabinieri, ministero della difesa, i peluche. Queste ne vendo tantissime sono le cuffie per il poligono. Una marea di berretti, berretti per ognuno e sono veramente tanti, polizia, finanza, croce rossa, polizia locale eccetera. Le torce della radar, anche queste ne vendo tantissime. Ancora berretti, qua sono un po' di nomi che si devono ritirare oppure che non hanno mai ritirato. Qua ancora placche, GDF, penitenziaria, polizia locale eccetera. Pantaloni blu, sempre polizia locale per chi indossa le cose blu, giubbottini eccetera. I nastrini per le medaglie, nastrini qua sono a milioni proprio.